Una signora di un sexy shop chiede alla cassa Vorrei qui il vibratore nero, quello blu e rosso E come sono, guardi, mi dispiace per il blu, posso darglielo Ma il rosso non ci serve l'esitore Un medico Lei è stato da qualcuno prima di venire da me? Sì, dal farmacista E quale stronzata le ha suggerito a quell'idioto incompetente? Di venire da lei?